Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Alex54 Oggi siamo in questo nuovissimo video Grazie mille Grazie ancora se non avete visto la scorsa vita andatelo a vedere Grazie per questi 100 iscritti Mi è arrivato il messaggio da Youtube Anche da Youtube Studio Ovviamente anche le mail Ho attivato tutto Che mi arrivassero più messaggi In caso di non connessione In caso di essere fuori casa Così da arrivare più messaggi Oggi oltre a fare una partita Andiamo a comprare una skin Che è stato un torneo Ed è stato Se vincevi quel torneo te la regalavano Oggi stiamo parlando Non l'ho ancora comprata Però è nel negozio Chi magari gioca Sa qual è Ho aspettato molto Anche per il suo alto costo Nello shop E ho aspettato molto Finchè sono arrivato A queste 84 gemme Che servono Come comprare a casa Skin e altri articoli Dal negozio E non solo Quindi oggi Non andremo a comprare 2 mega casse Oltre perché ci mancano ancora 5 gemme Non mi interessano neanche Ma andremo A comprare Non Chef di Ramai Che Ce lo possiamo comprare È molto scontato È quasi la metà Non andremo a comprare Colt Non andremo a comprare Il primo Re Anche perché non ce la faccio Ma non andremo a comprare Cupido E queste 3, 2, 9 skin Che devono uscire Prossimamente Ma andremo a comprare Shelley Del Paris Saint Germain Per chi non lo conosce Il Paris Saint Germain È una squadra francese In cui È Possiamo definire La più forte del campionato Nonostante Che magari Ci sono altre Ecco Andremo a comprare Questa skin Non ci serve Provarla Anche perché È giusto Shelley Con l'aspetto Ecco Come potete vedere Qui al lato Che ora vi sto mostrando Aspetto personalizzato Del Blur È texture Personalizzato Cioè Giusto il vestito Non è il Blur Ovviamente Il Blur Ce l'abbiamo È il primo Blur Che ti danno Per iniziale 3 Quindi Quello scegli Era questo qui Andiamo a comprare Fra 3 2 1 Ok Ok Sta arrivando Wow Fantastico Come vi ho detto Aspettato da molto Questa Skin Finalmente L'ho comprata Non mi interessa Rimango pure Con 4 Wow Con 4 gemme No ma non mi interessa Andiamo a farci Questa partita Wow Wow Veramente È una skin Che mi piace È forte anche Quindi Interessante Molto interessante Sono molto contento Di aver comprato Questa skin Vediamo se Diciamo No Vabbè Se ne scappa Lasciamolo stare Ehm Come sto dicendo Sono molto Oltre che Interessato Ma Aspettavo Il momento Di arrivare A questa Finalmente Sono arrivato Ok 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 Bomba Bomba Ok Uh Attenzione Uno con meno vita Ma spara più lontano Spara più lontano Ce l'ho Bea So che ora è arrivato il colpo So che ora è arrivato il colpo È arrivato il colpo Cavolo No Vabbè Comunque Come vi ho detto Non è Nessun potenziamento È sempre lei E quindi Non cambia molto Spero che il video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Mettete la C Panellina Per Nessun altro video Ma soprattutto Volevo dirvi che oggi Non uscirà il primo episodio Ma inizierà da domani Perché sto preparando Le ultime cose Oggi ho creato il personaggio E Ho deciso di mettere Non il nostro solito Alex 54 Ma di andare a mettere Nomi a caso E anche alcune volte Mi sono venuti I nomi Giorgianisi E quindi Questi nomi così Ci porteranno Per questa nostra carriera Che non vi posso ancora Svelare cose Credo che Svelare nel prossimo video Che uscirà sempre oggi Ci vediamo dopo E vi svelo la carriera Dai facciamo così Quindi a dopo Se volete sapere la carriera Di cosa la farò Iscrivetevi E Mettete la campagna Per vedere Nessun altro video Mettete anche un bel like A questo video Ciao ciao A dopo Grazie a tutti.